ragazzi ragazzi prima che inizi il video soltanto non sono pronti nel scorso video se vuoi essere anche te salutato nel prossimo video vuol dire iscrivervi al hashtag belchino o mi saluti ora inizia il video se siete ancora nuovi che vada sempre poco per i 4.000 iscriviti e lasciate i commenti lasciate perché non siete salutati come quelle persone assoghi io per essere sponsorizzati in un post entra nel mio club che siamo in 90 minuti ragazzi dai dai raga entrateci tutti eh non uscite perché non succede niente come avete letto dal titolo ti ho visto dalla copertina che speccherò gemme se vedete che c'ho 48 se le spreco vado a sprecarci e scioppare anche 555 monete tranne 1350 devo prendere al massimo coppe c'ho 58 attive ragazzi ragazzi io ho usato il nostro amichetto Eugenio ho trovato nella mega cassa delle 11.000 coppe uno perché a grado poco poi non è che morirò in fretta con lui prenderò delle coppe intanto cerco di stare sempre lontano dalle persone intanto cerco di stare sempre lontano dalle persone come la live ho fatto oggi ma visto che oggi è il 30 questo video penso che uscirà il 32 e niente vi ricordo di iscrivervi nel mio secondo canale entra nel mio gruppo whatsapp link in descrizione su discord e group ok qui sono un pochino circondato e sto sbagliando siamo ancora in 7 se prendo 0 dai devo stare un pochino ok siamo arrivati i quarti allora penso che farò qualcosa che voglio come prenderlo non sono riuscito a prenderlo ma chi se ne frega guarda dai non sono riuscito neanche a piccarlo ok è morto è morto non sono riuscito a prenderlo non sono riuscito a prenderlo ma è morto non è morto non è morto non è morto non è morto ok potremmo vincere dai non se c'è quella jackie quindi ora al massimo arriva al secondo dai ci riuscirò non arriverò mai i primi o mai eh ragazzi vabbè vabbè ggg ggg è stata una partita bella bellissima dice oh piotto guarda al massimo ho preso qualcosa oh 40 gettoni stella ok ragazzi visto che l'hanno già usato il genio non è che devo starci starci sempre a usarlo stavolta io uso il nostro amico Brock sempre in sezione che devo shoppare le gemme devo prima shoppare come si chiama poco schifo le monete poi le gemme ok perchè sennò è più brutto shoppo di più e niente niente e niente e niente 170 gemme per il contest allora non faccio così questo video devo farlo con un mio iscritto o una collaborazione solo che ora non c'ho due telefoni mi dispiace se vede questo video mi dispiace una volta l'avevamo fatto era un video bello ho sprecato anche tanto ma ragazzi ho perso ora devo andare in negozi oggetti a shoppare visto che ora non posso shoppare gemme cioè ora perchè ho perso solo una volta prendiamo questo il gadget no 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 vabbè 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 vado 21 oh oh ok già vedo nemici e ho paura e ho paura wow ah ragazzi vi ricordo che quando faccio una community di ah si seguite anche su instagram una community se farò una live ci sarete perchè tutti dovete dire no non ci sarò mi dispiace ma poi dopo venite l'anarche ho fatto ieri anche se voi l'avete dopo 4 giorni o 3 e abbiamo fatto 20 spettatori dobbiamo superare il mio record di 30 ragazzi dobbiamo superarlo non l'ho mai superato al massimo 31 cioè al massimo quello vi va bene ok siamo ancora in 8 ragazzi dobbiamo mandare più nei cispulli no non ci credo no 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 non voglio shoppare altre monete ok e altre monete da shoppare porco schifo altre monete da shoppare non farò mai il berry a livello 9 mai mai poi mai poi mai 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 uffa 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 allora noi andremo a usare il nostro amichetto pocho e ragazzi e ragazze siamo in partito con emezze francesco che mi ha chiesto di fare un video se sentite questo rumore solo che sto mangiando patatine dobbiamo formoglio se mi fai perdere emezze io 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 non so cosa ti uscirò ok no non lo cuidiamo aia no cosa fai cosa fai vieni ma mi vuoi far perdere no io io dopo di questa niente video insieme ok no no colpa sua colpa sua colpa sua colpa sua no sono arrivati terzi vale vale ok ragazzi ora siamo su food brawler siamo nella quarta roba ora dobbiamo anche vincere questa se no gemme si devono sprecare ok tini bot numero uno mi fai schifo e non hanno fatto gol non ci credo posso fare io gol in un modo in un modo possibile devo solo trovare il modo no dammelo no si autogol ho fatto ma segna me hanno detto che fanno tanti autogol e vengono bannati allora ahah dai dai ci hanno devastati qui ci hanno devastati no ma ne ha messo non puoi giocare oh cosa ha fatto a me se io un po' play ahia sono morto in un colpo dobbiamo riuscire a prendere questo punteggio e non cambiarlo oh wow no con una 71 di vita è come se è uno ok no no ragazzi stammi lontano ehi non distruggere no non ci credo siamo ci siamo eliminati grande grande no grandissimo non ci credo siamo non ci fanno gol ah non ci devono fare al massimo un gol possiamo fare noi gol almeno ohia 30 secondi dai 29 ok 27 no no buttata ragazzi 15 14 13 11 10 anzi no ragazzi questa è la quinta beh allora potremmo anche chiudere il video 5 4 3 2 1 ieri siamo riusciti a neanche sprecare delle gemme non ci credo beh ragazzi spero che il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like i livelli 50 commentare con la gioia io per essere sponsorizzati un po' spero di io per essere sponsorizzati eh si e essere salutati un po' vi ricordo di iscrivervi al canale che è anche sempre pochi per i 4.000 iscriviti intrati nel mio colpo se avete meno di 3.000 coppie se iscrivetevi sotto i commenti così vi tolgo un pochino di coppie e ragazzi grazie per la visione ciao a tutti iscriviti al canale grazie a tutti